Salve a tutti, ho provato a fare una live ma non mi arriva il segnale, il festival di Sanremo. Intanto faccio colazione colmate, come già vi ho abituato in molti miei video, anche nel 2014. Però che ci vuoi fare? Volevo fare una live ma non arriva il segnale fino qua. Inizia il festival di Sanremo, inizia il festival di Sanremo e molti di voi mi avete chiesto fai di nuovo un video perché l'ultimo video che ho fatto con il Nokia 302 si vede malissimo, poi purtroppo uno dei tanti video che ho girato si vedono solo due minuti di sei, quindi il video dura poco. E va bene, allora adesso parliamo di nuovo del festival di Sanremo, che non so se è iniziato o no. Affrontiamo di nuovo questo argomento. Riprova di come ormai dal lontano 2013 mi importi molto del festival di Sanremo. Mi importa molto che di più non mi potrebbe importare. Infatti non mi importa neanche di striscio. Io a Sanremo non lo filo neanche di striscio ma voi voi seguite Sanremo, vi piace Sanremo scrivetelo qua sotto non so che conformazione mi sembra sta registrando in full hd tanto non conviene fare un video in 4k di editarlo in 4k io ieri ci ho impiegato due ore per un mio canale o tre per un mio canale secondario editare un video di una ora in 4k intanto faccio colazione che è mattina vediamo c'è qua una manino ah no vabbè il tempo ah vabbè volevo cambiare qualche caratteristica della filmazione ma vedo che dovrei fare un'altra traccia a me il festival di Sanremo mi interessa così tanto che neanche so chi ci partecipa perché c'era uno che si chiamava Lamborghini ma non so se sia il suo cognome poi in un'edizione del festival di Sanremo un cantante in una conferenza ha fatto scandalo perché è arrivato Ultimo e non gli stava bene ma come si chiamava questo cantante? lui si è chiamato ha messo il soprannome si è messo il soprannome di Ultimo forse secondo l'adagio biblico gli ultimi saranno i primi e lui voleva arrivare primo e si è chiamato Ultimo ma io dico se la giuria ti ascolta dice chi c'è? Ultimo se la gente ti ascolta da casa con il televoto con il voto che poi si deve pure pagare per votare con sms con le reti sociali si deve pagare non so se 5 euro ma dico ma avete soldi da spendere allora compratevi sotto questo video che uscirà in premier compratevi un super grazie al mio canale così mi aiutate tanto i cantanti che vanno a Sanremo già i soldi ce li hanno Sanremo è una macchina di fare quattrini con la pubblicità invece voi pagatemi a me abbonatevi al mio canale partecipate in questa chat con super chat e sticker e quando non so se durante la premiere o dopo comprate un super grazie la differenza tra il super grazie e l'abbonamento è che il super grazie lo paghi una sola volta per esempio se tu ti vuoi abbonare al mio canale con 10 euro al mese ha fissato YouTube questi prezzi il minimo sarebbe non so se di 4 o 5 e puoi anche pagare di meno perché fai clic in una sticella e c'è un pagamento graduato puoi pagare meno di 2 euro ma se tu vuoi pagare 10 euro al mese sarebbero 140 euro all'anno però con l'abbonamento devi sempre stare pagando mi sembra mese dopo mese invece con il super grazie paghi una volta 140 non ci pensi più puoi anche comprare super grazie e abbonamenti a nome di altre persone li regali siccome io non avrò tempo di fare video dopo approfitto di fare colazione per fare sto video che mi avete richiesto su Sanremo Sanremo permette a molti di fare carriera vi ricordavate o voi ancora non eravate nati perché mi seguono sempre più persone dai 18 ai 24 anni quando Sanremo andava a dire le sue battute o le sue battutacce il signor Beppe Grillo ecco poi lo hanno cacciato per una battuta sui socialisti ma a lui gli si è dischiusa una nuova carriera quella di comico delle piazze e guadagnava molti soldini perché si faceva sponsorizzare e poi gli si è dischiusa la carriera politica quindi grazie a Sanremo ha fatto carriera politica che io vedevo di lui nella Rai te la do io l'America e te lo do io il Brasile ma tanto ridere non mi faceva lo vedevo più che altro per routine per avere qualcosa a che fare scusate che prendo lo zucchero quindi a Sanremo ci vanno tutti quelli che vogliono fare carriera non necessariamente quelli che hanno più talento anzi si piegano alle masse come molti in Youtube che cercano di fare i video che di sicuro la gente guarderà di più per carità è una strategia vincente ma è anche una strategia che porta qualcuno a scimmiotare le persone di successo io invece ho sempre fatto i video con spontaneità a fare copertine con spontaneità poi se c'è poche visualizzazioni preferisco che sia per merito mio piuttosto che imitare qualcuno e avere molte visualizzazioni anche perché molte volte neanche succede adesso facciamo onore a questi ciambellini non sono proprio donuts perché non sono morbidi dentro ringrazio tutti quelli che mi hanno sponsorizzato fino adesso dovevo scrivere una lista purtroppo non l'ho fatto dovrei fare un video dopo ringraziandoli uno a uno forse lo farò e lo metterò al finale quanti di voi vogliono far parte di una nuova lista di persone che io ringrazierò in video partecipino nella chat con un super chat uno sticker compino un super grazie o si abbonino sappino che se partecipano con una super chat il loro commento sarà messo in evidenza e se comprano un super grazie nei commenti sotto quindi non nella chat nei commenti il loro commento sarà messo in evidenza poi per chi si abbona compra un super grazie e compra un super chat o uno sticker e mi chiede di trattare di un argomento ci saranno molte probabilità che io farò un video su quell'argomento questo vale anche per i miei vecchi video perché io ho fatto video 10-11 anni fa ormai il 7 febbraio saranno 11 anni che ha il mio canale anche di 40 minuti e una volta parlavo di tantissime cose in un video se voi guardate un mio vecchio video e vi interessa qualche argomento di cui ho trattato lì mi raccomando commentate con un super grazie dicendo tu hai parlato di questa cosa che volevi dire fai un altro video a rispetto perché io non posso mettermi a guardare per intero video fatti 5-10 anni fa e 40 minuti dovrei guardare dozzine di vecchi video allora se voi volete un seguito visto che io ho parlato di tutto un po' guardatevi i miei vecchi video se vi interessa qualche argomento di cui parlo nei video perché a volte dico i titoli li mettevo poi generici perché parlavo di quello che mi veniva in mente Santenchan vi saluta in una breve chiacchiera che poi dura 40 minuti mi filmavo o con il Samsung Galaxy Unic 5360 5360 o con il Nokia Asha 302 e mettevo Santenchan vi parla in una breve chiacchiera il sabato pomeriggio alle 18.30 e poi parlavo non so dico Siga della Prima Repubblica di Maradona e bla 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 e poi non me lo ricordo neanche io perché molte volte non mettevo la miniatura e mettevo titolo a definire cresciamo tutti su YouTube che volevo dire non lo so che dicevo nel video quindi quando vedete un mio vecchio video del passato non commentate soltanto che volevi dire come avete fatto ultimamente perché io non lo so che volevo dire non vado a rivedere quel video a meno che non mi diate degli incentivi allora mi dite spiegaci cosa intendevi dire dicendo queste cose e commentando compratevi un super grazie in questo modo io farò una continuazione perché guarderò il video e lo fanno anche i più famosi come Breaking Italy come Nova Lecce o come e non lo faccio io cavolo ritornando su Sanremo per quanti ancora continueranno a guardare questo video io dal 2013 che ho fatto molti video su Sanremo sempre spiegando le ragioni per le quali a me Sanremo non piace non è che mi piaceva negli anni 80 o 70 vabbè che io sono nato il 26 gennaio 1969 quindi come mi potesse piacere la prima metà degli anni 70 non so però già da piccino Sanremo era lì soprattutto perché la RAI ha sempre ritrasmesso le trasmissioni del passato soprattutto negli anni 80 nella prima metà degli anni 80 guardavo il Sanremo in bianco e nero e anche il Sanremo della prima metà degli anni 80 forse anche di tutti gli anni 80 non era cattivo anche se un momento anche se naturalmente io non è che avessi tutta sta voglia di vedere Sanremo poi nel corso degli anni soprattutto degli anni 90 Sanremo per me è impeggiorata moltissimo è impeggiorata moltissimo vediamo se va avanti sto coso molte volte sto a parlare e il cellulare niente ah ecco e Sanremo quindi non so l'ho detto anni fa qual è la differenza col Sanremo di oggi è che Pippo Baudo non c'è più due basta due biscottini ho preso la frutta secca tipo Baudo non c'è più poi c'è stato il Sanremo che ho commentato a malincuore con la Letizetto e Fabrizio Fazio o Fabio Fazio ho commentato a malincuore perché c'è stato quella carmes delle persone che facevano finta di voler compiere un gesto estremo degli operai mi sembra come degli operai si comprano il biglietto di Sanremo per poi salire su un'impalcatura la più sicura e far finta di voler scendere giù sfidando la forza di gravità non l'ho mai capito che poi se volevano realmente andare di sotto lo facevano di testa senza voler discutere invece subito subito hanno cambiato di idea no 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 ma noi non vogliamo la cosa sospetta è che è successo pure in epoca di Pippo Baudo che sempre dei disoccupati non so se degli operai si volessero volessero fare un salto dall'impalcatura lo stesso punto dell'impalcatura notate e con gli stessi esiti che si sono subito pentiti appena gli hanno detto no pensateci le condizioni sono critiche la società e poi tanto Pippo Baudo molti anni prima forse negli anni 80 come Luciano Littizzetto e Fabio Fazio o Fabrizio Fazio si sono messi e si sono prodigati a fare tutto un discorso sociale sul malessere sulle questioni sociali su queste cose qua ma sembrava un discorso fatto a tavolino come si alternavano Littizzetto e Fazio tu se veramente devi frenare qualcuno che si sta per suicidare scusate supremi algoritmi suicida sui sui ci sui che è un coreano sam sui ci sui ci da sui ci può anche essere uno stile di arte marziale come tang su do sui ci e un'altra pronuncia di un'arte marziale tipo tang su do quindi su premi algoritmi non ho detto la parola non l'ho detta neanche parzialmente sui ci quindi quindi se uno realmente vuole spiccare il volo da un'impalcatura per porre termine ai suoi problemi non è che si ferma subito o che argomenta molto tutti noi questo lo sappiamo c'è poca luce questa mattina così è meglio è molto buio è quasi buio pesto alla genovese quindi mi è sembrata una una buttarda gente che si voleva buttare una buttarda hai capito e non mi è sembrato non mi è sembrato molto bello se devono ricorrere a dei colpi di scena e quasi si rischia di colpire la scena nel vero senso della parola se si deve conquistare l'audience della prima nottata in questo modo probabilmente quando lanceranno il festival di Sanremo ci sarà una cosa del genere di nuovo o al finale perché la società sta attraversando tensioni e perché parlino anche dopo soprattutto nei social media del festival di Sanremo il festival di Sanremo deve riflettere la realtà socioculturale la realtà del momento e quindi devono succedere tante cose brutte sporche e cattive e anche molto puzzolenti pure a Sanremo i cantanti devono litigare tra di loro come come Dado e Bugo che ho fatto dei video ho fatto dei video sulle finti liti di Dado e Bugo Bugo e Dado Dado e Bugo che hanno fatto una sceneggiata perché forse sin dall'inizio non era importante quando fu lanciato vincere il festival di Sanremo ma partecipare al festival di Sanremo in questo modo non passava inosservato però vincerlo faceva comodo faceva comodo perché si vendevano più dischi a un certo punto si è passati anche con il televoto da casa che si paga il televoto a voler partecipare per vincere e accontentarsi di essere presenti a semplicemente voler partecipare a Sanremo per essere visibili neanche importa più vincere e questa dimostrazione del fatto che ormai è più importante essere presenti a Sanremo che non vincere Sanremo a parte tutte le categorie che hanno fatto per non far entrare in conflitto i competitori tra di loro perché altrimenti ci sarebbe stato solo un unico vincitore come nel passato e tanti sconfitti ma i veri sconfitti sarebbero state le casse discografiche se non riuscivano a far vincere tanti cantanti perché se vince solo un cantante in una in un'unica categoria comprano solo quel disco e le casse discografiche non lo vogliono le casse discografiche sono quelle che organizzano Sanremo e allora che hanno ideato le casse discografiche? hanno ideato di fare sempre più categorie di canzoni in questo modo se tu stai in una categoria come cantante o come banda non entri in conflitto con altri cantanti e altre bande musicali che stanno in un'altra categoria quindi si danno tanti premi di Sanremo per quante categorie musicali ci sono e ci sono molte casse discografiche per ogni categoria o a volte sempre la stessa casa discografica si porta a casa i premi quindi aumentano sempre di più le categorie musicali aumentando sempre di più i cantanti che rientrano dentro a Sanremo occhio eh e quindi anche Sanremo prende sempre più denaro dove va di questo denaro? al fondo culturale? ai presentatori? non lo so però è così capito? poi avevano detto un anno che la formula sarebbe stata che ormai a Sanremo non perdeva più nessuno e non vinceva più nessuno davano delle dei riconoscimenti tutti vincono tanna libera per tutti allora che partecipano a Sanremo per essere presenti e la lite fra Bugo e Dado che neanche hanno iniziato a cantare seriamente ma si prendevano in giro e neanche di striscio proprio per intero e se non so se no come si chiama Dado io dico Dado e Bugo ma no Dado no Dado è il comico Bugo e non mi ricordo non era Dado io a ripetere Dado Dado con oro non so come si chiama manoglio mangioglio mangioglio si perdon mangioglio 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 e Bugo Bugo mangioglio io a ripetere Dado prima scusami tanto se è un bravo comico non sei un cantante mangioglio e Bugo Bugo magioglio Bugo magioglio 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 questo scandalo poi basato su che poi una cosa strana finiscono di litigare e se le cantarono di santa ragione finiscono di litigare sul palco o scenico come direbbe il Sani Gesualdi di Ninofrassica oppure il Sani Gesualdi di Ninofrassica di Indietro Tutta o magari Ninofrassica normale vestito da Ninofrassica di Indietro Tutta il palco o scenico dopo quella puntanata di Sanremo come direbbe Ninofrassica alla chiusura di una puntata qualunque di Indietro Tutta no? abbiamo finito un'altra puntanata ebbene dopo quella puntanata di Sanremo con la lite di Morgan Morgan era Morgan credo che era Morgan credo che era Morgan non lo so è Bugo prima che ho detto me lo sono scordato prova di quanta importanza gli dia hanno continuato a litigare andavano di qua andavano di là sul palco scenico andà dietro le quinte ma è incredibile che i cameraman li seguissero ovunque sembrava tutto predisposto sembrava un reality show uno show dentro lo show che è Sanremo tutto programmato ma allora l'hanno fatto apposta quella lite era per ostentare visibilità e forse vi dico perché perché le case discografiche sapevano che avrebbero vinto loro loro sapevano che avrebbero comunque venduto le loro i loro brani le loro canzoni soprattutto quelle che hanno fatto insieme adesso non mi ricordo come si chiama Bugo e l'altro che hanno litigato sapevano che tanto in cd perché all'epoca si vendevano ancora i cd come digitalmente avrebbero venduto molto e avrebbero anche che ha avuto molta o di audience in youtube e in altre reti sociali di podcast quindi loro le vendite le avrebbero avute garantite e anzi aumentate dallo scandalo e in questo modo ritirandosi perché poi li hanno squalificati come se a loro potesse importare di meno mica li hanno arrestati mica li hanno mandati in carcere avrebbero fatto vincere altri infatti hanno vinto altri insomma win or win tutti vincono perché hanno vinto loro perché hanno venduto hanno fatto presenza hanno fatto scandalo con lo scandalo poi le camere li hanno seguito dietro le quinte a filmarli poi hanno trasmesso la lite dappertutto la RAI cioè con la RAI non ti salvi perché c'è Sanremo il pre-festival il festival il festival e il post-festival di Sanremo tutti i giorni di tutto di più su Sanremo su tutti i canali della RAI pure sul digitale terrestre sul web Sanremo 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 e più Sanremo allora quell'anno hanno trasmesso i 12 mesi dell'anno la lite fra non so se Morgan e Bugo in chat scrivetemelo chi era e anche nei commenti chi era Bugo Dado no Dado no Morgan chi era chi hanno litigato in quel festival io adesso non voglio accedere al cellulare per vedere sto già con un cellulare perché accendere un altro e mettermi a cercare tanto e poi hanno trasmesso nei rotocalchi di Pettegolezzi anche mi sembra che c'era che tempo che fa Litizzeto Fabio Fazio hanno fatto vedere ogni tanto quelle immagini del litigio al pianoforte le immagini che si perseguitavano dietro le quinte le immagini dietro le quinte che litigavano le immagini di uno dei due che se ne andava e poi alla fine hanno fatto vedere tutte le dichiarazioni post festival o durante il festival di uno dei due dei due assieme che si erano magicamente riappacificati che litigavano di nuovo che non so se erano andati nell'isola dei famosi a litigare a riproporre il tema hanno riproposto la lite nelle varie salse e nei vari momenti anche post festival hanno continuato a litigare e la gente ha continuato a vedere questi rotocalchi di scandalo di Pettegolezzi di gossip dove loro due ritornavano a litigare in studio ritornavano a riappacificarsi facevano delle precisazioni sulle precisazioni delle precisazioni e poi ritornavano a spiegare quello che avevano detto sul palcoscenico quando non hanno cantato ma si rispondevano per le rime suonando il pianoforte quando si perseguitavano non si capiva bene perché c'era l'elettricità statica che non faceva sentire bene dei microfoni che avevano addosso quello che dicevano allora loro si sentivano un dovere di chiarire quello che dicevano durante le camminate dal pianoforte alle quinte quello che hanno detto dietro le quinte perché lo hanno detto come lo hanno detto a chi lo dicevano a chi alludevano e così poi quando uscivano fuori dalle quinte quando salivano in macchina se ne andavano c'erano giornalisti della RAI già postati lì anche della Mediaset a filmare tutto tutte le dichiarazioni sembrava tutto un giro d'Italia un tour de force dove ogni giornalista occupava il suo luogo per vederli passare sfilare cosa che non è successa con gli altri competitori di Sanremo durante tutta la loro polemica sono stati filmati in varie tappe del loro giro del loro tour de force sul palco assieme al piano durante la fuga dal piano dietro le quinte dietro le quinte nei vari luoghi quando uscirono uno al palco l'altro dall'altra parte si rincontrarono da qualche parte negli stabilimenti quando uscirono tutte e due a prendere la macchina cioè mi è sembrato un qualche cosa di molto artificiale e la gente a crederci la gente a crederci ma si sono ritirati per far vincere qualcun altro perché tanto loro avrebbero vinto comunque che cosa avrebbero vinto? il festival forse ma soprattutto un numero smodato di vendite che è quello che più interessa ai cantanti che vanno a Sanremo mettetevelo in mente il premio il premio se vinci il premio e poi nessun editore ti pubblica la tua musica e se non ti ascoltano sul web a che ti serve il premio? è come se YouTube ti dà la targhetta perché hai un milione di iscritti tanti auguri magari ti daranno mille dollari poi basta non è che ti danno una mensilità per avere un milione di iscritti sono le views le visualizzazioni che ti fanno guadagnare denaro non il milione milione e mezzo di iscritti se no quanto guadagnerebbe Piedi e Pai o come si chiami e MrBeast che hanno centinaia di milioni di iscritti se no miliardi e dovrebbero guadagnare in un mese quello che Big Gates e la Microsoft guadagnano in un anno YouTube gli dovrebbe pagare il mille per cento o il cinque mila per cento di quello che guadagna tutte e due ma non succede così capito? capito? ting a me queste cose queste cose mi fanno impazzire mi fanno stralunare però ecco tutte queste cose che ogni tanto rinnovano gli scandali gli scandaletti per poi continuare a parlare settimane mesi dopo di quello che è successo a Sanremo e ci sono programmi della RAI che scoprono nuovi scandali a Sanremo udite udite gente hanno il coraggio di dire che hanno scoperto nuovi scandali a Sanremo quando Sanremo è finito da Messi e non lo so quando Sanremo è finito da Messi loro scoprono nuovi scandali nuove cose che sono passate inosservate come se voi non ne avete prestato sufficiente attenzione allora lì si scopre magari dietro le scene che qualcuno ha filmato un cantante sostenere certe cose e in studio c'è l'altro cantante alle quali queste cose sono state dette chissà perché chissà come che reagisce scandalizzato si apre una nuova polemica e allora magicamente in diretta c'è collegato quel cantante che quelle cose le ha dette che fa dei chiarimenti che parte la polemica che chiudono la diretta che ritornano un'altra volta si arrabbiano ma non si vedono arrabbiati e poi alla fine chiariscono tutto quando vedono che l'audio in scala che hanno meno ritenzione di pubblico e si scusano ma tutte quelle filmazioni sono fatte accidentalmente voi complottisti complottardi complottari non vi mettete cose strane in testa non è che hanno fatto quelle interviste dietro le scene per poi fare delle finte polemiche no no sono dichiarazioni sentite su argomenti molto importanti di cui può importare a tutto il mondo tantissimo ma in pieno e non di striscio casualmente non hanno trasmesso quelle dichiarazioni durante il festival o nelle prime settimane dopo il festival le trasmettono dopo sei mesi che il festival è finito allora vanno a riprendere certe e poi le fanno sentire al diretto interessato come se attraverso i social oggigiorno uno non può collegarsi col cantante con il quale vuole fare polemica da giornalista da cantante e dirgliele o fare delle dichiarazioni aperte sui social no lo deve intervistare la Rai quell'intervista la scordano in un cassetto o in una micro SD o in un disco solido o rigido esterno e dopo magicamente dopo sei mesi qualcuno dice oh abbiamo ricontrollato il materiale che abbiamo registrato a Sanremo e c'è questa dichiarazione c'è questa dichiarazione andate ve la facciamo vedere la fanno vedere nella Rai non la mettono nei social media e nei social media mettono un'anteprima e chissà perché coincidenza oh ma coincidenza e voi complottisti e non dite nulla non dite nulla nella chat o nei commenti che vi sbagliate di sicuro perché voi siete mal pensati coincidenza che ci sono i diretti interessati dello scandaletto che hanno filmato senza saperlo in un'intervista nella quale non si parla d'altro o perché l'hanno ritagliato da un'intervista più ampia che anche non è andata in onda non si sa perché nella sua integrità oppure hanno filmato solo quei 30 secondi dove si ha il tempo di dire cose o scene che poi tanto scene non sono perché altrimenti partirebbe in automatico una denuncia e allora ritirano fuori questo breve videoclip di 30 secondi due minuti che ci sono i diretti interessati in studio o il diretto interessato ma la coincidenza più grande voi non dite al complotto e che c'è un inviato del programma tanto della Mediaset come della Rai dall'altra parte che dopo avervi fatto vedere a pieno schermo il filmato e dopo la reazione iniziale che può essere molto cattiva da parte dell'invitato che lo coinvolge parte la reazione o la risposta di chi ha provocato quella reazione con le sue dichiarazioni inedite inedite per voi che guardate ma che sono state filmate sei mesi prima caso strano parla in live si scusa non si scusa continua la polemica polemica che era ignorata fino a quel momento perché quella registrazione non si sa che fine ha fatto è stata ritagliata da un'intervista più grande oppure era solo quello che gli hanno domandato come ha cantato Tizio Caio male non l'hai mai saputo durante il festival non l'hai saputo dopo il festival lo sai qualche mese dopo e il diretto interessato dice ma come si permette questo quell'altro bla 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 e allora parte la diretta con quello che ha detto che ha cantato male per dire una no ma io lo dicevo perché sapendo il tuo curriculum la tua traiettoria artistica il tuo rendimento non è stato e allora lì parte la polemica a dirsi cose che sembrano pesanti perché urlano 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 e parlano 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 uno sull'altro si accavallano le voci ma non dicono nulla sostanziale come per andare in aula di giudizio all'acqua di rose è come le discussioni che ci sono in famiglia o in un condominio forse molto più leggere perché rispettano la legge coppa discussioni per tutto il pubblico urlate a squarciagola ma tutto il pubblico e mi scordavo allora mi raccomando partecipate nella chat forse questo video verrà molto largo perché non lo voglio editare in 4k d'altra parte la maggior parte del mio pubblico mi segue dal cellulare e poi e poi editarle un video di più di un'ora forse starò da un'ora facendo il video mi porta due o tre ore non lo voglio editare per niente voglio vedere a caricarlo in crudo come perché troppo lavoro editarlo se è un video molto largo non conviene editarlo se non l'avete ancora fatto partecipate della chat con un super chat o uno sticker mi aiutereste tantissimo anche a comprare i medicinali poi se partecipate con una super chat si evidenzierà la vostra chat con un super sticker anche però con una super chat si evidenzia quello che scrivete compratevi un super grazie a forma di cuoricino sotto o abbonatevi al canale vi ringrazierei tantissimo avrei bisogno di essere supportato perché mi aiutereste tantissimo ad andare avanti visto che io sto sì utilizzando un nuovo cellulare ma si riscalda come una padella io ho dovuto togliere la custodia in silicio perché sono di questi cellulari a prova d'acqua a prova di sabbia che poi non è vero se cadono nell'acqua o nella sabbia alla fine alla fine si danneggiano per non dire se cadono nella melma però se lascio questo la dispersione termica diminuisce a quasi zero quindi si riscalda a più di 80 gradi dentro e si può rovinare anche il microprocessore che ha otto nuclei ma io vi chiedo con tutta modestia di aiutarmi ad andare avanti già lo hanno fatto molte persone per quello che hanno potuto e quindi io non vi chiedo chissà quali finanziamenti ma basterebbe che ognuno di voi dia almeno non so qualche spicciolo perché un detto popolare dice che i milioni si fanno con i centesimi e quindi mille persone vedono questo video tutte mi dicono dei miei video bravo hai fatto bene bravissimo grazie ma ogni tanto compra un super grazie di puoi scegliere mi sembra che si può scegliere anche meno di 4 euro o 5 poi io devo studiare la maniera di diminuire almeno i super grazie a un euro perché lo capisco youtube ha messo degli standard troppo alti ma se tu schiacci super grazie oltre alla graduazione di prezzi che ha messo youtube c'è scritto di più more tu schiaccia lì fai tip lì e ti apparirà una sticella graduale e puoi scegliere meno di 4 o 5 euro puoi scegliere anche centesimi allora se tu mi regali anche meno di un euro e siete mille a regalarmi meno di un euro e già fa 500 mille euro capito con un super grazie abbonamento potete scegliere di pagare meno di 2 euro al mese basta fare clic in more in altro apparirà una sticella graduale e voi scegliete la cifra meno di un euro mi sta bene mi compro un caffè al giorno e lo bevo alla vostra salute però ecco tutti a dirmi bravo fai dei bei video ricevo tantissimi commenti sotto moltissimi video eppure eppure insomma aiutatemi non è solo aiuto morale quello che conta allora quanto tempo di video ho fatto 50 minuti per quello non è dire non vado ad editare questo video in 4k comunque mi hanno detto che le premiere e le live oggi non ho potuto fare la live perché non mi prende il wifi allora ho detto sarà il clima sarà quello che vuoi se mi si taglia costantemente il wifi divento matto a quest'ora del mattino non mi va allora faccio un video e lo edito lo edito quando posso sta registrando in FHD full HD meno male perché così non è molto pesante come video e poi ho visto che molti di voi hanno un formato inferiore al full HD nel cellulare e che avete più o meno HD plus o HD perché gli ultimi formati che si stanno affermando nella fascia media sono HD plus quindi un consiglio che vi do a tutte e tutti come un mio carissimo amico di cui scordo i nomi così e che non conviene editare in 4k a meno che non siano video di 10 minuti o inferiori ai 10 minuti allora 4k plus ci sta benissimo anzi faccio i video col cellulare in 4k ed in 8k con la camera principale come ho fatto un video tutorial di gastronomia casareccia mi si è riscaldato il cellulare come una padella anche perché stavo vicino ai fuochi e non conviene lo faccio sempre in full HD però al computer gli do un'edizione 4k perché la buona risoluzione di un video non dipende dal fatto che sia full HD 4k 8k ma dipende dai megapixel che ha più megapixel ha la camera più è nitida la risoluzione guardate il brillo dei miei occhiali se io mi fossi filmato con un mio vecchio cellulare vecchio per modo di dire perché del 2021 che ha una camera selfie di 5 megapixel non si vedeva lo stesso brillo e la stessa risoluzione di questo cellulare che ha 32 megapixel di risoluzione si vedeva in qualche cosa di più bassa risoluzione però tutti i dispositivi prima o poi ci lasciano non ci raddoppiano come direbbe Mike buongiorno che fai col cellulare lo lasci o lo raddoppi e io direi lo raddoppio il mio è un cellulare di fascia alta media per esempio facciamo il caso un Motorola age 30 fusion lo raddoppio lo do indietro e voglio gratis un Motorola age 40 ultra potessi farlo lo farei ma posso farlo grazie a tutte e tutti voi se mi supportate se mi sopportate se fate click in super grazie se vi abbonate al canale regalate alle vostre persone care e amate un super grazie al mio canale e partecipate nella chat con super chat e sticker magari prima o poi addirittura secondo voi magari fatemi un unico regalo è meglio avere adesso sta per uscire non so se l'iPhone 15 o un iPhone 16 è meglio avere un iPhone 15 Pro Max o 16 oppure è meglio avere un Samsung Galaxy Jung no quello ce l'ho avuto è meglio avere secondo voi un iPhone 14 Pro Max o 15 oppure un Samsung Galaxy S24 Ultra oppure un Motorola age 40 Ultra oppure il più caro e potente dei Xiaomi a voi lauda l'ardua sentenza ormai mi sto stancando un'ora di video commentatelo qua qual è il cellulare migliore fra gli Xiaomi i Samsung magari anche un folder o un flip il Motorola magari un Razor e gli Apple commentatelo nei commenti e appunto se secondo voi è meglio o un iPhone 14 Pro Max o un Samsung Galaxy S24 Ultra o un Motorola age 40 Ultra oppure lo Xiaomi di turno che sia il più potente e costoso fatemi un donativo con un abbonamento o un super grazie o un super chat o uno sticker dicendomi San Ten Chan ti dono questo denaro ma tu te devi comprare questo modello di cellulare e io vado subito a comprarmelo parola d'onore oppure una camera fotografica per firmarmi meglio che sia reflex mirrorless una filmatrice scrivetemi scrivetemi il modello e datemi un donativo e io lo compro necessiterei un modello di computer allo stile Intel Core i9 della massima potenza credo sia 16.000 e passa ma secondo voi è meglio il Core i9 della Intel oppure il Ryzen 9 della AMD e quale modello scrivetelo nella chat nei commenti soprattutto con un super grazie super chat uno sticker o un abbonamento dicendomi San Ten Chan comprati questo computer con questo microprocessore qua e io vado e lo compro lo faccio per voi eh per aumentare la qualità dei miei video perché sto ora editando capito e anche questo vale anche il discorso vale per i tablet ibdem ditemi che modello di tablet comprare o di portatile perché mia madre mi ha regalato nel 2018 un portatile che c'ha Windows 10 e Windows 10 è cattivissimo peggio di Windows 11 per me il miglior Windows è il Windows 7 ma io non sapevo nel 2018 che era un laptop del 2016 pesantissimo e c'è sempre più problemi si blocca si congela non so perché all'inizio non funzionava così allora voi ditemi che modello di laptop mi devo comprare o di notebook o di ibrido partecipate super chat sticker super grazie abbonamenti se è sufficiente quello che mi date io compro non ho alternativa capito allora chiudendo con fibbia d'oro questa peregrinazione nel festival di Sanremo guardate che mi ha regalato per Natale mia madre anche una targhetta micro SD che ho messo nel mio Nokia Asha 302 di decima generazione perché purtroppo c'avevo una da 32 GB però funzionava o non funzionava funzionava o non funzionava la riformattavo e ci aveva dei problemi chissà perché è nata male e si è bruciata non so perché l'ho riformattata col mio computer Core Duo adesso che c'ho un altro l'ho riformattato con l'altro computer però l'ho riformattata con un portatile l'ho voluto utilizzare con il mio moto ST Power niente però poi ho comprato quella da 16 GB perché? perché gli stava bene ha questo cellulare che ho regalato a mia madre per Natale che lei lo vuole utilizzare per emergenza iPro F183 si accende subito anche perché non ha un sistema operativo pesante da caricare purtroppo giga di regalo forse mia madre lo ha caricato devo un po' cancellare qua allora questo cellulare è in grado di supportare 16 GB però c'è una camera che filma peggio del Samsung Galaxy Young 5360 l perché? come si può apprezzare? filma sì in dunque vediamo un po' qua ho filmato il mio cane è bello filma bene si vede bene nel cellulare per quello che si deve vedere però qua lo dice questo è un video del 4-1-2024 quindi del 4 gennaio filmato alle 19.53 quindi con una cattiva illuminazione si vede bene pesa 810,8 kilobyte memoria interna 320x240 la stessa risoluzione che il Galaxy Young 5360 però c'è 0,1 megapixel e non 2 megapixel come il Galaxy Young 5360 e dura 15 secondi il video quindi occupando così poca memoria è inutile è inutile mettergli 16 gigabyte o 32 gigabyte qua il massimo era di 16 è inutile mettergli 16 gigabyte nell'altro cellulare dice che il massimo del Nokia 302 è di 256 gigabyte soltanto che ho visto che la durazione del video massimo riconosciuto è di 2 ore e mezza sia che ci siano 256 gigabyte sia che ci siano 32 sia che ci siano 16 gigabyte perché la lottizzazione della memoria fa sì che poi alla fine alla fine lo spazio utilizzato allora mia madre mi ha regalato per Natale la targhetta che volevo mettere qua poi ho messo qua quella da 2 gigabyte che utilizzavo con il Nokia 302 quindi in realtà gliela compravo a lei la targhetta me l'ha regalato a me e poi me la sono ripassata prima l'ho messa in questo cellulare vecchio ma non l'accettava cioè vedevo che come memoria interna non la utilizzava avrei dovuto passare i video dalla memoria interna alla targhetta allora dico troppo lavoro faccio prima a cancellare i 32 gigabyte che ha di memoria che a aggiungere altre 16 gigabyte d'altra parte utilizzando questo pendrive da 256 gigabyte poi ne ho altri uno da 16 gigabyte e uno da 2 perché facendo i lavori degli operai mi hanno rubato una pendrive o chiavetta di memoria che era di 32 o 36 gigabyte purtroppo quando vengono a fare lavori in casa si tentano io so che questa parte del video non la guarderà quasi nessuno quando uscirà in premier e meno che mai quando sarà poi disponibile come video ma io appunto non faccio video commerciali ma aspetto che la gente ascolti il contenuto un altro messaggio speriamo speriamo che insomma non sia musica con licenza d'autore sei rimasto senza credito? sì perché questo cellulare purtroppo si connette a gsm solo lo so che sono rimasto senza credito maledetto mannaccia bipposa compagnia sei tu che mi ti mandano dopo che ti mandano messaggi di consulta di pubblicità e tutto ti svuotano ti svuotano il credito perché questo ha una una scheda sim prepaga ne potrebbe avere due e poi e poi ti vengono a dire sei senza saldo fa una ricarica sos c'hai 24 ore per poi ricaricare più di tanti euro allora che dire di Sanremo? mi vengono tante cose da dire ma forse farò un video breve un'altra volta perché adesso mi sono stancato mi sono stancato e forse più di un'ora non lo guarda nessuno il video insomma anche perché ho detto tanto ho detto molto ho detto di più ho detto anche le stesse cose che ho detto in video anteriori e se voi cercate nel mio canale Sanremo o cercate sul web soprattutto con google search San Ten Chan fra virgolette tutto San Ten Chan Sanremo troverete molti dei miei video cercate su youtube fra virgolette nel sito di youtube o nell'applicazione di youtube fra virgolette San Ten Chan Sanremo e vedrete tutti i miei video perché mi sembra che hanno tolto la lente di ingrandimento per cercare nel canale che era molto comoda per cercare nel canale un tema ma io lo stesso vi do una chance perché nel mio canale c'è una lista di riproduzione di riproduzione una cartella titolata apposta Sanremo e canzoni una cosa del genere quindi cercate nella sezione playlist del mio canale una playlist che inizia con Sanremo e canzoni e musica e musica rilassante Sanremo e musica rilassante adesso non mi ricordo ma è divertente cercare no? perché se ti servono le cose io potrei mettere qua forse lo faccio una lista di video in descrizione riguardanti Sanremo forse lo farò e poi fra i video consigliati ma hanno detto ultimamente che mettere video consigliati in alto fa male al canale e io fra poco toglierò dai miei video tutti i video consigliati perché neanche inizia il video subito vanno a vedere i video consigliati e invece no io voglio vedere voglio che la gente guardi i video che faccio non che vadino a vedere di video in video 30 secondi allora mi raccomando cercate nel mio canale Sanremo cercate fra virgolette Sant'Enchan Sanremo sul web soprattutto googleate perché trovate più risultati che hanno a che fare con youtube poi cercate nel mio canale liste di riproduzione troverete la lista di riproduzione Sanremo e musica e rilassanti o qualcosa del genere vi lascio per non essere troppo ridondante ormai chi ha avuto ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato ha dato mettiamo se il cuore in pace se avete dato super sticker no se avete dato super chat e sticker super grazie abbonamento vi ringrazio se no vi ringrazio uguale se mi volete aiutare comunque dopo che avete guardato questo video perché arrivati fino a questo punto l'avete guardato tutto commentate qua in basso circa il festival di Sanremo se volete intervenite ancora siete ancora in tempo nella chat commentando di Sanremo e mi raccomando date like se vi è piaciuto il video e condividetelo quante volte più possibile tra i vostri amici parenti familiari in questo modo mi aiuterete tantissimo e adesso vi devo lasciare perché quante ore ho fatto ho fatto un'ora e dieci minuti che grosso modo è quanto dura una mia live un'ora un'ora e trenta minuti però ho esaurito gli argomenti tempo fa nell'accademia di youtube qualcuno ha fatto un video per consigliare i creators quelli che hanno la partnership e diceva i pro e i contro di fare video troppo larghi più di otto minuti e troppo corti meno di otto minuti però ha detto l'importante è che se fate un video molto largo innanzitutto la ritenzione del pubblico sia molto alta ma soprattutto dite tutto quello che dovete dire sull'argomento quindi se il video lo dovete fare di un'ora, due ore, quattro ore otto ore perché per esempio è una classe di programmazione allora fatelo pure di otto ore non è che fare visualizzazioni ore di visualizzazione e tutto sia la sola cosa importante se vi sentite di parlare di un argomento una, due, tre ore allora fate un video di tre ore ma se potete dire tutto in due o tre minuti o in cinque minuti non lo fate più largo io mi sono sentito di fare un video in un'ora e dieci minuti adesso mi sentirò di caricarlo nel computer e oi 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 che dolori che dolori a parte che voglio vedere come si sarà surriscaldato il cellulare ma trasferire questo video e per quello vi dico fate un donativo al mio canale perché prima un anno così fondo il cellulare poi dovrò utilizzare la mia vecchia filmatrice che ormai gli si è rotto lo schermo per fare dei video e dovrò anche utilizzare la mia camera compatta della Sony che fa dei video bellissimi in HD e poi non so il Nokia Asha 302 magari farò dei video con questo se capisco come fare delle gif animate per caricare nelle nella community perché io ho visto che alcuni canali possono mettere delle gif animate io farei delle gif su me stesso non delle gaffe delle gif però non so come fare beh prima che continui bla 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 a parlare vi ringrazio di cuore ci avrà 80 gradi fare night sì veramente vicino alla camera scotta allora arrivedoci faccio come una volta che io mi avvicinavo al Nokia Asha 302 che tenevo in un barattolo di biscotti e vi salutavo così da vicino il vostro San Ten Chan il vostro San Ten Chan vi saluta grazie e guardate tutti i miei video commentateli condivideteli anche quelli del passato di 10 11 anni fa che erano fatti più spontaneamente sono bellissimi guardatevi tutti i miei video di quando ero più giovane di 11 anni e li facevo ingenuamente li facevo veramente erano video folli vi divertiranno da matti ciao 1 ora 14 minuti 20 secondi ciao voglio arrivare ai 30 secondi perché che ne so qua non si spegne ora grazie a tutti grazie a tutti